si faccio scouting scouting e cerco da trovare giovani forti promettenti non è facile c'è stanno in giro ma nel tuo giorno hai parlato di tonali è bravo secondo quello del brescia è più forte di tutti in quel ruolo è più forte di tutti infatti in tutto e per tutto cercherò di prenderlo se sveglio viene subito se sveglio se dorme dai piedi ma va via dal brescia subito quest'anno io penso che si dai dipende pure il campionato se inizia non inizia il mercato quando si fa che è un bel casino e della roma sai che mi piace a me della roma secondo me in questi dieci anni avuti giovani più bravi di tutti grazie a tutti